Nell'ultima riunione prima della pausa estiva il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di misure in materia fiscale ed economica nell'ambito del decreto Omnibus. Il testo prevede una spesa di 1 miliardo e 600 milioni di euro, in aggiunta agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d'imposta per le imprese che investono nella zona economica speciale unica. Con un altro provvedimento si innalza da 100 a 200 mila euro annui l'imposta sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. La dotazione del Fondo per le Emergenze Nazionali per il 2024 viene incrementata di 150 milioni di euro. Inoltre, per compensare i danni economici causati dal calo delle presenze turistiche dovute alla mancanza di neve, viene riconosciuto alle aziende turistico-ricettive dei comuni montani degli Appennini un contributo a fondo perduto per un ammontare complessivo di 13 milioni di euro. Per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile, un provvedimento adegua l'attuale normativa al diritto dell'Unione europea, riduce gli oneri regolatori, favorisce la competitività e agevola l'avvio delle attività economiche e l'installazione e il potenziamento degli impianti anche a uso domestico. Vengono introdotte anche nuove disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Nel secondo trimestre dell'anno la domanda di abitazioni nel nostro Paese resta ancora debole, con il numero dei potenziali acquirenti in lieve calo. I prezzi si mantengono sostanzialmente invariati. Lo conferma un'indagine condotta dalla Banca d'Italia su un campione di agenti immobiliari. Anche l'offerta resta fiacca. I nuovi incarichi per la vendita sono rimasti pressoché invariati rispetto al primo trimestre. Il numero di transazioni è invece cresciuto rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra l'affidamento dell'incarico all'agenzia e la vendita trascorre mediamente un tempo di 5,7 mesi, con uno sconto medio dell'8,5% sul prezzo richiesto inizialmente. Più vivace è il mercato delle locazioni. Al calo dell'offerta di abitazioni, in parte dovuta alle preferenze dei proprietari per affitti brevi, si affianca una domanda robusta, ascrivibile secondo gli operatori del settore anche alle difficoltà ad acquistare immobili per alcune categorie di affittuari, in particolare nelle aree urbane del nord. Le aspettative per i prossimi mesi restano negative, ma il pessimismo degli agenti si è attenuato rispetto a un anno fa. Telefoni e tecnologia. È questo il binomio che ha fatto segnare un vero e proprio boom nei consumi degli italiani negli ultimi 30 anni. I primi con un incremento della spesa pro capite in termini reali di oltre il 6.500%. Mentre per PC e prodotti audiovisivi e multimediali la crescita è stata del 962%. All'interno del comparto del tempo libero sono in forte crescita anche i servizi recreativi e culturali che hanno registrato più 90%. Questi in sintesi i principali risultati che emergono da un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2024. In calo alimentari e bevande, abbigliamento, mobili ed elettrodomestici e il consumo di elettricità e gas, grazie anche alla riduzione degli sprechi e alle politiche di risparmio energetico adottate negli ultimi anni. Nel 2024 la spesa pro capite per consumi delle famiglie, sebbene abbia recuperato i livelli pre-pandemici, è ancora sotto i livelli di picco del 2007. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Quest'anno i consumi legati al tempo libero e quelli della filiera turistica daranno un forte contributo alla crescita, ma la nostra economia è ancora in una fase di incertezza. Molto dipenderà dalla tenuta dell'occupazione, dalla riduzione dell'inflazione e dagli investimenti del PNRR e soprattutto dalla piena attuazione della riforma fiscale che può e deve sostenere redditi e consumi delle famiglie.